Nel Consiglio del Pubblico, grazie a noi, a parte l'opera di uscire di tutti, semplicemente per rispondere su brevissima lente in cui per tutti. Allora, io oggi non voglio scegliere nel merito delle questioni di schiena, anzi, se sono tirate intanto tante questioni di Europa e di PUNC, ricordo semplicemente al Consigliere Cavuscio che il piano ambientale delle opere è approvato entro il 15 ottobre, oggi siamo già chiamati a essere fuori termine, e senza l'affumazione del piano ambientale delle opere non si può arrivare a un'affumazione di bilancio, non a un'azione di bilancio, quindi riesco a capire che coricemente quando le condizioni è vero che si uniscano, è anche vero, purtroppo che non sempre riescono ad esprimere il senso dei propri lavori. Io non voglio fare una critica ai membri, a coloro che partecipano alle condizioni, io che esprimo le mie più generali, se sono stato il promotore del progetto per la rivoluzione delle commissioni consigliari, per dare impulso reale, io vi chiedo una cosa, una rivoluzione, non si può, scusate, quali altri accordi, relazioni, pareti, cioè qualcosa di scritto che... Consigliere, consigliere, se abbiamo delle condizioni, prego. Caro, sapete che mi sono indicati un giorno fa, sarebbe opportuno che le commissioni si esprimessero, anche su questo atto, comparezioni, scritti con delle motivazioni. In realtà le commissioni, secondo me, non funzionano perché sono strutturate male, o perché ci partecipano persone che hanno fatto voglia di lavorare, assolutamente così. E voglio uscire dalla polemica di queste, in questo momento, semplicemente per risparmi di quello che io pensiero. E queste commissioni vanno ricordulate, vanno riprogrammate, vanno efficienti. Quello che si vuole fare con l'appropriazione del principio di regolamento, questo semplicemente per chiarire la situazione, non te ne voglia qualcuno, ma è il mio giudizio personale. Io farei tutta la cosa che volevo dire, ma veramente, ma cosa vuoi dire? E' vero, non vuoi dire, cosa vuoi dire, cosa vuoi dire a questo video? Perché, semplicemente, noi non ci riconosciamo più dei due assessori che sono seguiti. Ma questi sono seguiti, sono seguiti, sono che si stanno depredando. E' presatto, e' presatto che oggi gli assessori che infascinano cazzo al pittino, oggi sono inspezioni di qualche altro, un po' più del pittino. Questa è la questione. Allora, la volete risolvere. Pensione, risolvete la, e di qui, sono altra volta, risolverò la questione. Non abbiamo due lezioni come ci fa, se non la stiamo ad aggravare a tutti. Presidente Polizio, se abbiamo conclusione. Pensione, perché oggi l'immobilismo di questa amministrazione, che veramente non mi sta concentrando sui problemi principali della città, sta gravando la questa, bellissimo per me, che continua a essere bellissimo maese, lo sta spartorizzando. Ricordiamo anche che la legge statale, che ha tagliato ancora di più i voti, qui, più Europa, ci dobbiamo discutere, avrà un 30% mancato di voti, andiamo a discutere anche questo. Sappiate queste cose, immaginate, prendete proprio i pezzi, perché a voi è di stare, ma non è di politica, ma non è di politica, ma non è di politica. Oggi è di solo due tempo. Ha ragione, quindi veramente mi spiace questa polemica e mi metto a portare la luce. Adesso. Grazie. E non ce ne stanno trattamente a fare la portogia della luce.